Yo-Yo, Yo-you kai watch Ciao a tutti i kik districts! Ben ritornati da vostro wilderness 911 su Yo-Kai Watch 2 Prima parte del post-game Dunque, iniziamo con Nighthame che si sta allenando per rimanere in forma Cosa che dovrei fare anch'io Ma dobbiamo sbloccare per prima cosa l'Inferno Infinito Dunque l'Inferno Infinito c'è anche in questo gioco E c'è anche il Tunnel Infinito Ora, non so ancora come sbloccare il Tunnel Infinito Ma ci arriverò tranquilli non vi preoccupate Per sbloccare l'inferno infinito Dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto Yoke Watch 1 Ovvero andare dal signor Soldoni Il signor di pietra mi sembra E dobbiamo parlare con lui E dirà che ha conosciuto un ragazzo simile a noi Tantissimi anni fa E dirà appunto che ha trovato una casetta Un capanno in un campo fiorito Ma ci dirà che forse è stato solo un sogno Noi parliamo con sua moglie E ci darà una chiave Perché anche lei riesce a vedere gli yokai Comunque sia ci dirà che quella chiave Apre l'inferno infinito Ma prima di andare all'inferno infinito Prendiamo Jetnan Che ancora non l'ho preso Nello scorso video dove ho mostrato come prenderlo O meglio come attivare l'evento di Jetnan Ci dobbiamo combattere Diamogli una barretta di cioccolato Per far sì che diventi nostro amico più facilmente Può anche essere che non accada la prima volta Perché comunque sia Può anche succedere che lui non diventi nostro amico subito Quindi vi consiglio di salvare il gioco Prima di affrontarlo Così nel caso non diventa vostro amico Spegnete e riaccendete E vi ritrovate a combattere subito con lui Invece di aspettare un giorno Poi andiamo a Val d'oro del passato Andiamo davanti al municipio Ovvero dove abbiamo affrontato l'etaldama E ci sarà un quiz cartello Con la lente yokai lo facciamo apparire Ci chiederà di scrivere il nome di uno yokai Si chiama Aspiricordo Aspiricordo è una fusione tra tartar cordo e un aspirapolvere Tartar cordo l'abbiamo per forza preso nella storia Mentre l'aspirapolvere bisognerà viaggiare in treno A un certo punto ci sarà un signore che ci sarà un aspirapolvere Io ne ho addirittura due Un signore vi darà l'aspirapolvere Andate al tempietto zen Fate la fusione Tornate a Val d'oro del passato Evocate Aspiricordo E parlando con lui Vi farà riaffrontare l'etaldama Questo è un modo per riaffrontare l'etaldama Dunque come prima parte del post game Direi che siamo partiti col botto Video corto Ma volevo giusto farlo fresco fresco Così giusto per iniziare subito con lo sprint E la parte del post game Molto presto caricherò anche gli episodi dell'inferno infinito Li voglio registrare tutti quanti in una volta E poi caricarli di giorno in giorno Quindi per il momento per questo è tutto Vi ringrazio come sempre per aver seguito questo video Ci vediamo nel prossimo Bye bye